Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Agor e oggi faremo un video su Clash Royale Clash Royale, faremo un video su Clash Royale e apriremo il baule del clan, il baule da torneo da 7 vittori infatti ho la cura, cioè in realtà non ci ho giocato io, ci ho giocato mio fratello che lui è in arena 10 io sono in arena 7 e mi ha vinto la cura, quindi lo ringrazio molto, si chiama Zetal, cioè in realtà è un suo soprannome che si è dato sul Clash Royale e Clash of Clare, è solo che io lo chiamo Zetal, comunque apriremo il baule, Massimo ci troveremo l'epica secondo me, se si muovesse magari, il mio tablet è lento, quindi sarà anche lento nella fattura dei tablet, ok? scusate se non vedo queste parti, è solo che mi sembra un po' uno spreco perché tanto sono andata tipo 10-20 secondi, quindi non è che è molto segno su tagliarle ok bene, infatti vedete qua, torno, infatti vedete che ho la cura al 3, sono in arena 7, è stata felicitissima quando mi ha fatto il momento, quindi via 3.800 di oro, 2 giganti, 19 mortai, 33 barbari scelti, 94 e l'epica e barile goblin, sapevo che non ci avrei trovato nulla, però quasi ovviamente adesso costa 100 a strada dei commenti, ma è una gioia, guardate un po' come sto messo, strega, ah si per il torneo perché, allora, Agor ovviamente mi chiamo, sono dei goods royale, statistiche royale, vittorie 240, vittorie 3 colore 185, trofei maggiori 2069, carta preferita attuale, strega, carte trovate 57 su 72, totale donazione 3650, record vittorie 7, infatti è il numero massimo, carte vinte 370, scontri giocati 25, carte vinte 0, ah torneo, comunque mazzo da battaglia è questo che ve lo consiglio, prima avevo, al posto dei 3 sgherri avevo l'orda di sgherri, però poi sono i 3 sgherri, vedete l'oro, il mio livello, qua c'è una mosca se sentite, poi 2011 di trofei, 413 gemme, questo è il mio mazzo, come vi ho già fatto vedere, qui c'è la gura, che vi ho già fatto vedere, e niente, questo è tutto, comunque, al prossimo video, ciao, ciao, iscrivetevi, mettete like, ciao, iscrivetevi, mettete in commenti, se avete vinto e tutto il resto, quindi, fatevi sapere nei commenti, se avete trovato regionale e tutta roba così, scrivete quello che volete, me non me ne fai, se studiate, mi interessa molto, quindi, scrivete me lo nei commenti, e spero che questo video vi sia piaciuto, e che possiamo dire, che posso dire, al prossimo, ciao,